Ciao a tutti, in questo video voglio darvi appunto dei piccoli consigli su come imparare a fare la conservativa se siete appunto degli studenti giovani oppure comunque sia degli odontoiatri neolaureati e quant'altro chiaramente questo è il metodo che attuai, che utilizzai io dopo la laurea quindi è chiaro che è un mio consiglio strettamente personale in primo luogo se volete imparare la conservativa quindi se volete imparare a dotturare i denti dovete studiare quindi vi consiglio di prendervi un buon libro di conservativa è chiaro che all'università avrete già visto gli aspetti generali della conservativa di che cosa si tratta quindi già ne capirete tanto però potete approfondire il vostro studio sulla letteratura scientifica, iscrivendovi alle accademie di odontoiatria conservativa e quant'altro seguendo corsi, webinar, contenuti youtube gratuiti, di tutto e di più però appunto per prima cosa dovete studiare una volta che avete appunto studiato quindi che siete padroni dell'argomento potete appunto iniziare ad esercitarvi in questo modo dovete praticamente prendere un bicchiere di plastica e ci dovete colare all'interno praticamente del gesso di solito io utilizzavo come in questo caso il gesso duro o extra duro una volta che avete fatto questa basetta di gesso mentre il gesso sta per fare prese quindi sta per indurire ci inserite all'interno dei denti estratti è chiaro uno può dire vabbè ma io sto all'inizio dove li trovo i denti estratti è chiaro che uno appena si laurea quando è studente prossimo alla laurea inizia a seguire degli studi magari nello studio in cui state seguendo chiedete se vi possono dare appunto dei denti estratti oppure se per esempio possono darvi appunto un po' di gesso proprio per crearvi questo tipo di basetta io appunto qui ne ho diverse questa qui per esempio è un'altra però il concetto vale per tutte le basette e quindi su questi denti estratti dovete esercitarvi voi a fare devitalizzazioni preparazioni protesiche potete anche esercitarvi nel fare le otturazioni e più nello specifico se volete fare le otturazioni vi consiglio di prendervi chiaramente un composito magari scaduto magari ve l'ho fatta avere sempre dallo studio composito vecchio e lo usate per fare chiaramente le otturazioni quindi con il trapano, è chiaro che questa cosa non la potete fare a casa perché dovete avere il trapano, dovete avere la lampada eccetera 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 quindi è una cosa che chiaramente va fatta in studio magari tra un paziente e l'altro quando diciamo avete un po' di tempo libero nello studio ve la fate praticamente vi poggiate nella sputacchiera con guanti, schermi eccetera e con la turbina o col micromotore vi andate appunto a esercitare però non è che vi esercitate così alla cieca dovete prima studiare e capire quindi trovare le carie sui denti e diciamo capire poi come vanno trattate le varie carie potete anche esercitarvi a fare delle rizectomie e così via per questo motivo diciamo che nel prossimo video vi farò vedere come si tratta una prima classe poi diciamo questi due molari molto vicini c'è una seconda classe quindi una carie tra un dente e l'altro e praticamente io vi farò vedere come si fanno anche le seconde classi quindi nei prossimi video vi mostrerò in maniera pratica tutto questo su questa basetta proprio come feci io appena mi laureai spero infatti che questo video ti possa essere utile in cambio ti chiedo soltanto di iscriverti al mio canale youtube ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti